Cosa è adesso? Cosa è adesso? Proprio adesso? Pronto? Qua del bagnac? Ah, te lo senti? Ciao, sì, sì. No, no. No, no, grazie. Sì, sì, sono contenta di sentirti, ma è che sono di furia. Sì, sono anche un poco, un poco nervosa. Sì, è perché vado a vaccinarmi. Sì, sì, adesso, 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 sì, non mi ricordo ben l'ora, mi pare verso le sei, sì, sì, sì. E per cui non posso stare tanto al telefono. Comunque è certo che sono nervosa, sono in ansia, anche perché non so cosa mettermi. Cosa ti ridi? Sempia? Ti sei vaccinato o te? Ah no? Come mai che sono ancora più vecchia di me? Sì, beh, allora, ma non sei per l'eleganza, sei per la praticità, no? Regipetto, se capisci, regipetto. Ma non so se mettermi la maglietta di lana rosa di Nona o il combinè. Non ti sai cosa che è il combinè? Ciò che è triestina, adesso. Il combinè è una parola triestina, la sottoveste vuol dire. Arriva dal francese, poi. Sì, dal francese, il combinè sono. Ah, 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 abbiamo tante parole noi di altre lingue, cosa ti credi? Perché io arrivo a un porto qua, come Caragon, Marangon, Minestron. Tutto dal francese arriva. Ignorante, sì. E sono nervosa, cosa ti dico? Sì, 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 vado, vado. Sì, sì, hai mai detto cose coccoli, coccoli, gentili, bravissimi, puntualissimi. Anzi, non bisogna andare tanto, tanto prima, eh? Eh, no, perché sennò si intasa. Si intasa la fila, il meccanismo. Noi, invece, adesso, perché intasiamo tutto, si intasiamo le terapie intensive, intasiamo l'ospedale, intasiamo le file. Ma, diventa la vecina che loro, se va bene. Eh, 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 bom, bom, va bene. Vado sola, sì, vado sola, perché mio nipote non può leggere il zoom. No, zoom, zoom. Non ti sai cosa c'è il zoom? Tutto, tutto, tutto lo faccio con il zoom. Lo faccio con il zoom, 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 il zoom, lo faccio con 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 il zoom. Sì, sì, ah, è un mondo tutto moderno adesso. Eh, bisogna darvi a passo coi tempi. Sì, sì, vado sola, con te che sia. Paura, ma di cosa? Paura, non vedo l'ora di vaccinarmi, cara mia, quasi l'unica, l'unica, vaccinarsi. Che vaccino che mi fa? Non so. Oh, oddio, a me mi piacessi moderna. Sì, però mi pare che mi fa quei piffer, piffer, pitzer. Sì, ma guarda, per me va bene tutto. Che mi metti anche quell'estragenezza, che dici tanto, a me e me va bene. L'importante è vaccinarsi. Eh, bom. Senti co, quella te vuole assarte, sa? Perché adesso mi devo preparare. Sì, eh, voglio esserla un'esaurita prima. Ma so che non bisogna andare tanto presto. So, capì, ma sai come che siamo fatti noi austro-ungarici, no? Eh, vuol dire che mi porterò il termo, so un rebecchino, mi metto là in canton e manierò qualcosa, intanto che aspetta, no? Ciao, ciao, coccola, ciao, senti, man suit, ciao, man suit, te faccio saber, te faccio saber, ciao. Grazie a tutti